Musica Appassionati di calcio amici della Serie D un cordiale saluto da Alessandro Pao siamo in diretta dal Riano Athletic Center di Roma dove oggi vi racconteremo la sfida tra Roma City e Chieti valida per la tredicesima giornata del girone F del campionato di Serie D poi tocca bene Montesi per il compagno può distendersi la Roma City sulla sinistra Rea punta l'avversario ancora Rea rientra sul destro bravissimo il 17 poi un tiro cross la palla che attraversa tutta l'area la tiene in campo attenzione esce Serra palla messa in calcio d'angolo va via a Perroni allarga il gioco Palmisano a spazio il numero 11 parte un cross direttamente in porta palla sulla parte superiore della rete si spegne sul fondo Rossi può provare il tiro Barone in due tempi la blocca allora Diem può provare il lancio per l'incursione di Rea vediamo se ci arriva il 17 la palla è buona Rea ci arriva punta Spinelli può partire un cross Rea si inserisce in area di rigore c'è spazio la mette giù Cabella si gira il destro la parata di Serra in calcio d'angolo grandissima occasione per la Roma City ancora una volta Rea è stato molto importante per la fase offensiva della Roma City è stato servito dai compagni in velocità attenzione ancora un pallone buono in area di rigore il passaggio un tiro cross non ci arriva Raffini palla che scivola sul fondo palla nel mucchio prova ad arrivarci Raffini la palla si impenna sulla traversa di Serra quindi c'è ancora un po' di tempo per le speranze delle due squadre attenzione alle Chieti Palmisano prova a far scorrere poi la palla che sbatte sull'attaccante delle Chieti il tentativo di rinvio di Barone secondo me un po' che intanto inizia in questo istante Roma City che ricordiamo è raduce da ben tre sconfitte consecutive in casa vuole ovviamente invertire questo trend attenzione però Barone perde un pallone sanguinoso poi arriva sulla sfera gioco interrotto vediamo la scelta del direttore di gara che va ad ammonire Barone cerchiamo di capire bene cosa è successo perché le Chieti protesta in maniera molto molto vistosa Roma City costretta a cercare qualcosa in più del pareggio ma bisogna fare attenzione contro un Chieti che sicuramente può far male alla difesa di statuto proprio in questa occasione Cesario da destro la palla che entra in porta si sblocca il match il destro di Cesario trova all'angolo lontano batte Barone fa 1 a 0 per il Chieti quando mancano 20 minuti al novantesimo Riosa poi alla meglio Rossi si gira in mezzo a 2 palla buona per Riosa attenzione al Chieti Cesario allarga Petrantonio in era di rigore col macino palla dentro Barone non ci arriva e poi il palo l'azione ancora viva Bregasi la palla è tra in porta il raddoppio del Chieti la firma del numero 4 Bregasi se vuole provare a pareggiare questo incontro serve un gol al più presto Pisano corner teso palla al limite Napoleoni palla centrale la parata di Serra ha provato a farsi vedere il nuovo acquisto della Roma City ultimi istanti dell'incontro Napoleoni arriva sul pallone posizione regolare palla buona per Romeo prova a calciare col destro spera che scivola sul fondo alla destra della porta di Serra e ora possiamo dirlo finisce qui arriva il triplice fischio il Chieti batte la Roma City per due reti a zero per effetto delle reti siglate da Cesario e Bregasi conquista tre punti che la proiettano a quota 17 Roma City che ottiene la quarta sconfitta consecutiva in casa resta fermo a quota 7 che c'è la quarta sconfitta Grazie a tutti.